Scoperta dal sindaco di Avellino Paolo Foti e dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Moscati Angelo Percopo la targa di intitolazione del piazzale antistante la città ospedaliera al medico ed amministratore Francesco Rotondi. Alla cerimonia sono intervenuti i familiari dell'illustre irpino. Presente anche lo storico Andrea Massaro che ha tracciato un profilo biografico del medico ed amministratore. Nato a Parolise Rotondi è stato a lungo consigliere comunale del capoluogo e ha ricoperto il ruolo di assessore alla sanità. Ha guidato inoltre anche il suo comune natio per ben due volte. Per noi è un grande onore e una grande soddisfazione che la città, a voler ricordare mio nonno, che era legatissimo a questa città. Lui era originario di Parolise però amava in una maniera viscerale questa città e in particolare il centro storico. Che l'ha vissuta sia da medico sia di amministratore e l'ha portata sempre nel cuore. Quindi per noi è una soddisfazione enorme per la nostra famiglia. Un atto di riconoscimento doveroso da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di un figlio illustre della città. Il dottore Rotondi oltre che essere stato un eccezionale, validissimo e valente medico che ha fatto molto per i suoi pazienti e non solo per i suoi pazienti in questa comunità è stato anche un amministratore attento, è stato vice sindaco, assessore, consigliere comunale un assessore attento che ha dato anche il suo contributo decisivo alla crescita della città di Avellì. Quindi questo vuole essere un atto di memoria collettiva per il futuro di questa città.